TvL nasce da un'esperienza pregressa solida in molti settori e dal 2015 sviluppa soluzioni originali IoT per diverse applicazioni. TvL System è un'azienda innovativa con un'esperienza decennale in vari settori, dal settore della metameccanica all'estrusione delle materie plastiche. Ha ottenuto brevetti a livello internazionale e presenta in questa fiera la tecnologia al servizio della sicurezza con il prodotto SmartVest che permette di andare a tracciare quelle che sono le varie attività e a fornire delle segnalazioni di aiuto e supporto all'operatore. TvL è nata sviluppando un'idea che si è tradotta in una soluzione che riguarda un processo produttivo per la trasformazione della materia plastico. ha depositato un brevetto che è stato ottenuto in Italia ed esteso all'estero e che riguarda in particolare il settore dello Smart Packaging, quindi dell'imballaggio intelligente. L'attività di TvL è trasversale, realizzando delle soluzioni sia per l'ambito industriale ma anche per altri ambiti e altri settori, come il settore medicale. Per TvL il fattore tecnologico è assolutamente importante, anzi la ricerca è un fattore fondamentale. Per quanto riguarda lo SmartVest l'evoluzione è continua e attualmente stiamo studiando, abbiamo già realizzato, dei prodotti che riescono a rilevare dei parametri biometrici. Quindi per quanto riguarda TvL la sfida e il progresso e l'innovazione tecnologica sono un fattore assolutamente rilevante. Per quanto riguarda il futuro, la TvL ha in cantiere nuovi prodotti nel settore sempre del wearable sia per l'ambiente industriale che per altri tipi di applicazioni, come il medicale. TvL progetta e sviluppa completamente le sue soluzioni, quindi parte dalla richiesta, dall'idea progettuale fino alla realizzazione del prodotto completo. Il prodotto è realizzato in Italia ed è progettato nei nostri laboratori uffici. L'evoluzione Grazie a tutti